Mendicanti, marinai appena sbarcati al porto, ubriaconi, ladri, questa è la gente che si aggira per i vicoli bui e malodoranti dell'Ista Est di Londra. Difficile uscire da quelle strade indenne, impossibile se sei una donna e l'ora di Jack lo Squartatore è scoccata. Questo è un romanzo misterioso e dalle tinte oscure che catapulta nella White Chapel di fine ottocento raccontando in modo inedito le donne di Jack lo Squartatore.